Ciao c'è nei cani, andiamo a prendere! Abbiamo preso LOL Surprise! E adesso andiamo a vedere cosa abbiamo trovato. Tidiamo giù la cerniera. E' duro! Ti aiuto? No! Va bene. Se vuoi che ti aiuta, lo dici. E' duroissimo! Accidenti! Allora... Tidiamo giù la cerniera. E ho giusto questa. Ok. Oh! Il bigliettino! Questa è una bambina e un pare fessato. Ah, ok. Vedi? Non è vero. Facciamo qui. Ciao piccolina! Questa è la cerniera. Un'altra cerniera. Aiuti! Perché... Ma quante cerniere ci sono? Sì! E poi troviamo il secondo bigliettino. Ah! Capito! Prega bene allora tu, come funziona? Vamo intanto cerca di aprirla. Ah! Li puoi anche mettere male. Li puoi anche mettere male. Li puoi mettere un po' di male. Sì! E qua, siamo senza unghie. Tutte e due. Mettiamo unghie grandi, poi unghie grandi. E quindi facciamo fatica ad aprire. Ci siamo. Un'altra cerniera. E poi facciamo la cerniera. Ah! Che bella pera! È tutto blu! Guarda! È un altro bigliettino c'è. C'è l'altro bigliettino dentro. Eccolo qua. Sì. Eccolo qua. Un bigliettino che cambia colore. Guarda. Un bigliettino che cambia colore. Guarda. Vediamo. Ah sì. Eccolo qua. E adesso? Apriamo la seconda pera. La terza cerniera. Ce la faccio! Da ce la faccio! Guarda! Ce la faccio! Bene, bravissimi. Ce l'ho fatta! Yeah! Perché la seconda cerniera ce l'ho fatta! Da sola! Brava! E si tira! Oh! E bella! E adesso come si fa ad aprire? Così! Da! Bella! Oh! Vediamo! Qui c'è! Dici sono le istruzioni? Sì! Perché mi metterò in acqua! Ah! Qui c'è il bigliettino! Guarda! Bigliettino! Ah! Ah! Ok! Qui c'è tutte le istruzioni! Allora c'è qua dentro! Adesso apriamo? Ti arrivo la forbice? No! Forse ce la facciamo! Sì! Qua c'è il coso di tutte le tipologie di LOL! E poi ci sono le Grandes LOL! E poi ci sono le Grandes LOL! E poi ci sono le Grandes LOL! Qui le troviamo! E qui ci sono le Grandes LOL! Surprise! Eh sì! Ora qui! Bisoglio! Bisogna rompere qua, al fianco, così, a vedere, aspetta, ho sentito le cuffie, le cuffie abbiamo trovato, ok, questa è la piccola long surprise, questa è la piccola, no, questa è la long surprise, questa è la long surprise, vediamo qui che c'è, sì, perché qui c'è la long surprise, guardiamo qui, apri, ci sono ancora questi due d'acqua, quello è il vestito, lo zaino, sì, lo zaino, adesso proviamo questa qui, ah, piccola, ma che vediamo, eccola qua, abbiamo trovato questa, qui è, dammi là, è trovata lì, tra quelle? è questa, ecco, cosa via? sì, sì, ho lì, così, lì, teoni, bam, lì, teoni burn, esatto, esatto, esatto qui, mangio un'altra bustina, vediamo cosa c'è, tieni, ah guarda, va lì dentro, va dentro lì, adesso vediamo non lo sappiamo, allora abbiamo riempito la ciotolina qui di acqua praticamente ghiacciata e adesso andiamo a prendere la piccola, vedete com'è, andiamo ad immergerla e poi la volta, vedete che prenderà, alcune parti prenderanno colore non so se si vede ma l'occhietto è diventato rosso e le mutandine sono diventate righe ora, se vogliamo, questa cosa votata, questo lo infiliamo qui, nel bocchino mettiamo la nostra mini lol dentro, insieme a tutti i suoi accessori la richiudiamo così e possiamo portarla in giro con noi dove vogliamo e qui abbiamo, noi abbiamo segnato quella che abbiamo trovato con l'adesivo ora speriamo di riuscire a trovarne molte altre al prossimo video, ciao ciao